Francesco, hai giocato un'altra serie impressionante round di golf per il 64? Come si compariscono i due 64? Le condizioni più trickierne questa mattina? Un po' più difficile oggi, qualche asta un po' più complicata. Stamattina quando sono partito sono stati fortunati e abbiamo avuto poco vento. Sono riuscito a sfruttare questa cosa. Adesso sta diventando un po' più difficile per gli altri e vediamo domani. Sì, sicuramente hanno aiutato. Ho fatto un brutto bogey alla 2, però subito ricompensato con Grand Ferro 7 alla 3. Sono riuscito a mettere la meno di un metro. E' un bel ligo alla 5 che sicuramente ha aiutato nello score. Questi 64 sono arrivati un po' più difficile per te, non è? Sì, due di seguito sono belli. Vediamo di farne altri due, dai. Ti auguro al weekend? Assolutamente sì. Grazie. Grazie. Buona.